Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online E oggi ragazzi partiamo, buh non so, sott'acqua? Sembra di si, non lo so Penso che si sia buggato tutto, 321 partiamo, anche ho preso il turbo, vabbè ricompariamo ragazzi Intanto c'è stata un'esplosione assurda, comunque credo che si sia buggato tutto Ecco qui cos'è, tutto già esploso, non lo so, allora questa è una gara GTA Perché mi sono bloccato qui, buh ragazzi questa gara sta già iniziando senza spiegazioni Sono anche esploso, va bene, allora l'obiettivo principale è quello di prendere il primo checkpoint Perché non ci sto già capendo più nulla, allora andiamo giù, spariamo qui dei razzi Non ho colpito nessuno ma primo checkpoint preso, questo è un cazzo di traguardo, non lo so Allora vediamo un po' di colpire gli altri in qualche modo, mamma mia l'ho colpito veramente in pieno quello ragazzi Allora in questa gara avremo tre giri, stiamo già più o meno recuperando, razzi indietro, uno, mamma mia quello è volato completamente via E non so io proverò un attimo a recuperare, vabbè ci siamo già in quinta posizione, uh cos'è? Ho mancato il checkpoint, perché? Perché ho mancato il checkpoint, qui arrivano auto, esplose, veramente di tutto Ok questo l'abbiamo preso, la gente continua a volare, spariamo i razzi! Cosa è successo? Ma perché mi colpiscono e volo? Adesso siamo esplosi Ragazzi non lo so, gara assurda, lasciate un like per questa gara iniziata in maniera devastante E che continua in maniera devastante Allora i razzi, lì non li ho presi, cerchiamo di stare attentissimi Vabbè adesso piazzerò un bel po' di bomba adesiva, così totalmente a caso Niente siamo esplosi di nuovo Razzi indietro, occhio quello è esploso, vai ragazzi ne abbiamo ucciso uno, perfetto avanti iniziamo Iniziamo un po' a uccidere un po' di gente, dai Muoviamoci, bomba adesiva qui, piazziamole, esplodi Ok non è morto però forse nessuno, bomba qui, salta in aria No non l'ho colpito? Ma che cazzo è? Allora qui, qui il checkpoint è da quella parte Bomba adesiva in volo, in volo, facciamo saltare tutti in aria ragazzi, in volo, esplodete tutti Allora non è morto però nessuno, vabbè qualcuno sì, qualcuno se non è riuscito a ucciderlo Dai saltate cazzo, razzi così, totalmente a caso Però non muore nessuno, boh non lo so, io qui sto facendo il macello Ok quei due sono saltati, perfetto, doppia uccisione, doppia kill, prendiamo i razzi e muoviamoci Dobbiamo assolutamente correre, bomba qui, vai 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 vai, incredibile Facciamo saltare di tutto, un'altra esplosa ragazzi Io però neanche sto guardando i checkpoint, non sto guardando nulla Mamma mia mi hanno colpito, va bene va bene va bene, arriva il checkpoint Ok ce l'ho fatta, almeno il checkpoint l'ho preso E ripartiamo, ripartiamo, sempre le mie bombe adesive Qui spariamo razzi indietro, razzi indietro di nuovo Niente da fare, non ho preso nessuno Dai dai venite qui, cos'è, cos'è la gente sotto? La gente sotto, bomba 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 bomba, esplodi Ok non è morto nessuno, via muoviamoci, si vabbè siamo esplosi Direzione sbagliata, proprio tutte le cose più assurde Questa ragazzi è una gara totalmente insensata Cioè non c'è un senso, è soltanto un massacro Ok quelli saltati in aria, vai muoviamoci Altro checkpoint, guarda qui arrivano auto esplose Veramente di tutto, saltiamo Dai che adesso c'è un altro giro Allora qui intanto voglio le mie bombe Ok ce l'abbiamo le bombe, cos'è c'era un elicottero Sentivo anche un elicottero Bomba qui, c'è qualcuno, vai avvicinati Esplodi ora, non è saltato? Perché non è saltato? Comunque noi siamo al terzo giro Qualcuno ha già con quello che mi cade sopra Vabbè ovviamente, ovviamente noi Vai checkpoint preso, ce l'abbiamo fatta Guardate qui la gente come arriva Io non devo più morire Devo cercare ragazzi, questo perché si è buttato? Non lo so, esplodete tutti, vai Qualcuno è morto, non lo so, razzi Boom, uno è saltato Mamma mia, non ci sto capendo nulla Veramente, una delle gare più incasinate di sempre Vai checkpoint preso Muoviamoci, razzi indietro Esplodete tutti, bastardi Mamma mia Ok uno è saltato in aria Che poi tutte le uccisioni in ritardo C'è anche la polizia Vai, 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 esplodete E niente Vai, uno l'ho ucciso ragazzi L'obiettivo adesso è concludere Perché non so più Non so più cosa fare Stiamo prendendo tutti i checkpoint Avanti, razzi Non ho colpito nessuno Andiamo qui Continuamente auto esplose Checkpoint preso Vai, vai che stiamo andando bene Vai che stiamo andando bene Qui ragazzi ormai c'è praticamente Soltanto il traguardo Bombe adesive lì Attenzione, quella arriva Salta in aria Perché non è morto? Esplodi Ok ragazzi Vai, esplodi anche tu Bomba, bomba Esplodi anche tu Ok, manca soltanto il traguardo Saltate tutti in aria Vai, penso che quello dietro di me sia morto Io ho lanciato tre bombe adesive Mi sembra Lo so, due sicuro Forse anche tre Comunque abbiamo concluso Questo è l'importante Ho concluso in ottava posizione Ragazzi veramente incredibile Gara assurda Cioè come prima gare Se iniziamo così È veramente qualcosa di devastante Comunque sia Molto bella Un po' troppo Incasinata Però comunque sia bella Adesso ne andremo a fare un'altra Eccoci qui Altra gara Questa volta ragazzi Non ci sono le auto modificate C'era soltanto la Zen Torno Come auto Sinceramente non me l'aspettavo Comunque sì Ho scelto il colore della Crew 3, 2, 1 E partiamo subito avanti Allora qui dovremmo avere delle mega ramp Non è GTA Quindi meno casino Rispetto prima Anche se non ne sono molto sicuro Perché guardate qui Che cazzo è volato Era volata qualcosa lì Muoviamoci Mamma mia devastazione Con il lag Con tutto Allora Checkpoint preso E andiamo ragazzi Mamma mia Che gare Che gare Veramente incredibile Allora Andiamo qui Vai 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 Stiamo attenti Queste curve qui Non promettono bene Arrivano tutti sopra E qui Prendiamo il checkpoint Subito via Subito via Perfetto Allora dovremmo essere vicini Alla rampa O a qualcosa del genere Boom Quello è andato a farsi fottere O forse no No è ancora lì No ragazzi È andato a farsi fottere È confermato Siamo in terza posizione Per adesso Andiamo Vai con la scia Vai con la scia Dove sono le rampe Ho fame ragazzi Di rampe Quello è andato a farsi fottere Già sono due Allora Andiamo qui Uh mi hanno sfiorato Siamo in prima posizione Ma durerà per pochissimo Questa cosa Vai velocità Ok c'è qualcosa ragazzi Una piccolissima rampa Vai qui Segui la guida E salta su Salta su No Siamo saltati sotto il checkpoint Incredibile Vabbè posso salire No si ok Stavo quasi per ricomparire ragazzi Errore Incredibile Invece vai qui Prendiamo il checkpoint E continuiamo Avanti Vai 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 che adesso Le rampe quelle vere Devono ancora arrivare Eccole lì Vedo già delle costruzioni Velocità Velocità Andiamo Mamma mia Super salto Con la scia Incredibile Andiamo 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 Ragazzi Fantastica rampa Tutta estremamente guidata Vai Velocità Potenza Potenza Zentorno Non fare scherzi E checkpoint preso Terza posizione Ragazzi rampa Assolutamente guidata Ma fantastica Allora vai Siamo qui con altri due giocatori Muoviamoci subito Secondo giro Ci stiamo nuovamente avvicinando Qui c'è uno accanto Via via Cosa vuoi fare Vuoi superarmi Andiamo È volato via ragazzi Allora vai Questa volta ce la devo fare Salta nel parcheggio Prendi il checkpoint In qualche modo Non l'ha preso Vabbè ragazzi Cos'è Non ce la posso fare Prima ero in prima posizione E allora magari ci può stare Perché avevo meno potenza Ma adesso no Perché Perché non ce l'ha fatta Vai risalta Andiamo Ok Questa volta abbiamo Totalmente superato tutto Però va bene lo stesso L'importante è fare adesso Questa rampa qui Allora attenzione Quello che cazzo fa Torna indietro Non lo so Noi siamo sempre in terza Siamo in seconda adesso Vai 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 Velocità Vai qui Perfetto Il primo purtroppo ha già concluso Andiamo 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 Vai la perfezione così Tutto estremamente guidato Mamma mia Rampa veramente Stupenda Allora Penso che La seconda posizione Sia nostra Andiamo Velocità E concludiamo ragazzi In seconda posizione Con la nostra Zentorno Colore crew Veramente ottima Dai una bella gara Alla fine Molto veloce Scorrevole Senza Senza problemi Per poco Devo dire Non siamo arrivati Anche in prima Cioè se avessi preso Il checkpoint Del parcheggio Al primo tentativo Forse sarei arrivato Anche ragazzi in prima Però Purtroppo non ce l'abbiamo fatta Il gioco come al solito Fa cose strane Troll Incredibili Comunque sia Molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra Altra gara Adesso ci troviamo All'aeroporto Con Los Aires Finalmente ci sono Le auto modificate Partiamo oppure no Cioè è tutto fermo Che cazzo Quello si era mosso Perché Ok go Così all'improvviso ragazzi Senza neanche il 3-2-1 Infatti non ho preso Neanche il turbo Boh vabbè Cos'è Assurdo Dai muoviamoci Guardate qui Il macello Di auto Che volano Via via Massacro Massacro di massa Allora Le rampe Ma noi prendiamo il checkpoint E superiamo tutto Superiamo tutto Veramente stupendo Vai velocità adesso Allora lì cosa c'è un elicottero Perché non si sa Iniziano le rampe Iniziano subito Le mega rampe Mamma mia Salta qui Via Osiris Grandissimo Quello lì mi ha aiutato Perché avevo Penso poca velocità Ma sono esploso Ovviamente Quello mi aiuta Ma sono esploso Saltiamo adesso Dai ora ci arriviamo Senza problemi Non colpitemi Perfetto Qui c'è il checkpoint E lo prendi a Guarda qui Con il piccolo salto troll Guarda Ma che cazzo fa quello Andiamo dai Dobbiamo fare questa Questa spirale Dobbiamo ragazzi Fare quello che mi compare Dentro l'auto Va bene Queste gare stanno iniziando Già a trollarmi Andiamo dai Possiamo farcela Possiamo farcela Possiamo farcela No non ce l'abbiamo fatta Il problema di questa spirale Che è Praticamente ci sono I rimorchi dei camion Che hanno Una piccola cosa Nel tetto Che fa totalmente Fa totalmente Saltellare l'auto Vai che ora ci siamo Vai che ora ci siamo E saltiamo Ok Checkpoint preso Finalmente ce l'abbiamo fatta No purtroppo ragazzi C'era C'era quella parte lì Dei rimorchi Che mi faceva saltellare Inizialmente l'auto E non riuscivo a fare la spirale Comunque sia Ce l'abbiamo fatta Siamo in ottava posizione Voliamo Verso gli altri checkpoint Dai una gara Comunque semplice Anche se abbiamo perso Un po' di tempo A fare quella parte Però Devo dire che è piuttosto semplice Checkpoint preso E andiamo Qui mi sa che c'è subito Il secondo giro E' vero? Sì ragazzi Secondo giro E ci risiamo Vai saltiamo Senza fare scherzi E si era mossa l'auto Durante il salto Non so perché Sempre i misteri Allora Checkpoint preso Avanti Andiamo Andiamo Vediamo se in questo secondo giro Riusciremo a fare tutto Al meglio Guardate un po' qui Vai 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 Il primo tentativo Checkpoint preso E siamo ragazzi In terza posizione Terza posizione per noi Allora c'è uno dietro Muoviamoci E il secondo è già concluso Dove concludere No vabbè È già concluso per forza Perché davanti non ha nessuno E nulla ragazzi Dai abbiamo fatto un grandissimo recupero Nel secondo giro Rampa il primo tentativo C'è l'ultimo checkpoint Eccolo qui Manca soltanto il traguardo E andiamo ragazzi a concludere questa gara In terza posizione Dai veramente ottima Primo giro un po' complicato Secondo giro fatto praticamente subito Che dire abbiamo giocato tre gare Molto belle come al solito La prima è stata totalmente devastante Un inizio sott'acqua Esplosioni continue Non si è capito nulla È stata sicuramente però La gara più bella Più particolare Delle tre che abbiamo giocato Io spero che il video vi sia piaciuto Qui ad extra lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao